L'alunno Sam Fester è stato nominato studente dell'anno con il progetto a elettroenergia magnetica migliore Ragazzi, l'energia è tutta Non è fantastico? Sam Fester, studente brillante Ora tu sei il nostro obiettivo Cosa stai costruendo, Fester? Occhi rossi, lacrime per il tuo compagno di banco scomparso Lacrime di gioia, saprò di nuovo da chi copiare Beh, non ci farò l'abitudine Per torno da casa, signore Che cosa è successo fuori da scuola? Ho aperto gli occhi Voglio proteggere le persone dai criminali della strada Immaginati Con un dispositivo del genere domineresti la città Sì, posso guidare Vediamo se il giocattolo funziona È stato ultimato il potenziamento, signore Sai che ti dico? Rendila un po' più aggressive Dannazione! Stammi dietro Ma che sta succedendo qui? Guardiamo faccia la realtà Abbiamo visto tre cose peggiori Molti rispeccolano sul fatto che io non faccia altro che studiare Io non sono certo un secchione Mi pare evidente FONDERSCHRIPT 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 Grazie a tutti.